Di Classica è un podcast di produzione di Pesaro Capitale della Cultura 2024 e di Orchestra Olimpia. L'idea di questo podcast è nata da Margherita Macri, che è una persona che stimo e conosco da molto tempo, ma si incontra a livello cronologico con la scrittura del dossier da parte di Pesaro Capitale della Cultura. Potrete ascoltare otto puntate in uscita in maniera sfalsata l'una dall'altra. La prima puntata sarà l'8 marzo e all'interno di ogni puntata sarà possibile fare degli ascolti vari, vari sia come periodo storico che come tipologia di organico, quindi ci sono strumenti solissimi, ma ci sono anche piccoli ensemble, l'orchestra e c'è anche un brano con il coro. Le otto puntate di Di Classica sono un viaggio intorno al mondo, partiamo dall'America a arrivare fino alla Cina. C'è anche una tappa in Italia con Metaura Torricelli, che è una violinista che fra 800 e 900 girò tutto il mondo come grande virtuosa e che ha avuto i suoi Natali a Fossombrone, dove questo podcast poi è stato registrato. Gli artisti coinvolti sono le musiciste di Orchestra Olimpia, poi ci sono anche delle soliste che abbiamo coinvolto, che sono del territorio ma che vivono nel mondo. Abbiamo anche un uomo, Raffaele Damen, che partecipa alla puntata di Sofia Gubaidulina. Il mio contributo per questo progetto è stato quello di produrre una sigla, che avrete il piacere di ascoltare con l'uscita delle puntate. Ho partecipato a questo bando, è stato selezionato il mio pezzo e poi ho continuato la collaborazione con la direzione artistica di Orchestra Olimpia. Per cui l'8 marzo ci sarà anche l'evento inaugurale al Gra, verrà fatto un DJ set di musica classica e una performance di danza contemporanea. Grazie a tutti.